Dopo il clamoroso fuorionda divulgato ieri, mercoledì 18 ottobre, da striscia la notizia, il giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, questa mattina non era presente alla conduzione di Diario del Giorno su Rete 4. Come si vede nell'eclip oggetto della polemica il giornalista si è lamentato per le critiche mosse nei suoi confronti circa la pettinatura che portava e infine si è intrattenuto a parlare con la sua collega lì in studio facendole dei complimenti e arrivando ad affermare di essere alquanto dispiaciuto di averla conosciuta così. Al suo posto oggi è comparsa la collega giornalista Manuela Boselli che, dal canto suo, non ha proferito parola sulle motivazioni della sua presenza in studio al posto di Giambruno. Che sia tutto legato alla bufera scoppiata per il famoso fuorionda? È questa la domanda che si sono posti in molti e a quanto pare adesso si è trovata una risposta. Sembra che l'assenza di oggi di Andrea Giambruno sia del tutto giustificata e non legata allo scandalo scoppiato in seguito al servizio mandato in onda ieri da Striscia la Notizia. Stando a quanto si apprende sui social nelle ultime ore e quanto riportato da Massimo Falcioni su X. Ex Twitter, Giambruno quest'oggi ha dovuto presenziare, in qualità di moderatore, a una conferenza sul turismo e sostenibilità che si è tenuta in quel di paese un appuntamento molto importante dal titolo, Stati Generali sul Cammino e il Turismo Sostenibile, al quale ha preso parte con un videomessaggio anche il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Assenza quindi dovuta a impegni istituzionali presi da tempo e che nulla ha a che vedere con l'episodio controverso di ieri anche se c'è da ammetterlo, il tempismo è stato parecchio sfortunato. Sembra quindi che l'arcano sia stato svelato e quindi è molto probabile che già da domani Giambruno torni nelle vesti di conduttore su Rete4. Non resta da chiedersi se sfrutterà l'occasione per commentare l'accaduto oppure preferirà praticare il silenzio.